Una delle domande a cui mi capita più spesso di rispondere, insomma, che mi fanno gli studenti magari quando mi scrivono in privato su Facebook oppure sotto i commenti, insomma, nei video, è quella del come posso utilizzare gli schemi o gli appunti del mio compagno, me li ha passati, cosa ci devo fare, come li devo studiare. Bene, sono qui per darvi una cattiva notizia, ovvero lo scopo dello schema, lo scopo dell'appunto, lo scopo delle parole chiave, tutto quello che volete, è farlo, non è possederlo, per cui quando qualcuno vi passa gli schemi, i propri schemi, i propri appunti, eccetera, non dovete utilizzarli così com'è, ma li dovete rielaborare, quindi dovete utilizzarli eventualmente come base per costruire i vostri. L'atto dello schematizzare, l'atto del produrre schemi, produrre appunti, produrre parole chiave, eccetera, è un atto creativo in un certo senso di rielaborazione, ed è in quella rielaborazione che si annida la vera efficacia dello studio. Quindi voi avete bisogno di metterci del vostro e di rielaborare, appunto, uso la stessa parola perché funziona molto bene, le informazioni, digerirle e ritirarle fuori con il vostro modo di pensare, filtrate da voi. Solo in quel modo vi trasformerete da un contenitore di informazioni a un produttore e un organizzatore di informazioni, che è il vero scopo poi finale dello studio e della comprensione nello specifico. Per cui quando il vostro amico vi passa i suoi appunti, i suoi schemi, voi li prendete, li leggete e li usate come base per costruire i vostri. Non dovete accettare la pappa pronta. Se per magia io potessi schioccare le dita e farvi apparire davanti a voi lo schema perfetto per voi, anzi tutti gli schemi di tutta la vostra carriera universitaria e oltre, già fatti, già pronti, eccetera, non vi starei in realtà facendo un favore perché trovandosi la pappa pronta quello studio non sarà ugualmente efficace e la funzione dello schema, quindi l'utilizzo, il fatto di aumentare la memoria, la comprensione, bla 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 bla, non funzionerà completamente. Attenzione, bonus, la stessa cosa vale per le slide del professore. Una cosa interessante è che le slide sono di per sé già un metodo estremamente sintetico, estremamente schematico, ma quello che succede è che quindi lo studente dice, vabbè, ho già le slide, sono già schematiche, quindi studio direttamente su quelle, salto la fase in cui devo fare io lo schema e risparmio tempo. Sbagliato, errore, non stai risparmiando tempo, lo stai spendendo perché dovrai ripassare molto di più, dovrai studiare molto di più, perché il lavoro di rielaborazione, di sintesi e di costruzione lo ha fatto il professore, quindi paradossalmente le slide sono lo strumento che il professore ha usato per consolidare le proprie conoscenze, è lui che facendole ha studiato, non voi. Quindi ricordatevi sempre che quando dovete affrontare uno schema, un appunto, le parole chiave, qualsiasi altra cosa, la parola d'ordine è fare, siete voi che dovete farlo. Possedere lo schema non serve a tanto. Io sono Alessandro De Concini e tutti i giorni vi parlo di apprendimento, cognizione e produttività sulla mia pagina Facebook Alessandro De Concini ADC, su YouTube, su Instagram, tramite podcast e su tutti i canali social. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e nel frattempo andate a studiare voi!